Diversi comuni cilentani hanno partecipato al bando Fermenti in Comune. L'avviso attivato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Lanci ha come obiettivo quello di promuovere l'avvio o il rafforzamento di azioni positive messe in campo dai giovani per affrontare le sfide sociali ritenute prioritarie per le proprie comunità tenendo conto della pandemia in corso. Il comune di Castellabate ha partecipato al bando in partenariato con l'associazione Ocilento attraverso il progetto.